Stavano percorrendo a piedi, armati e con il volto coperto la via dell'Adamello a San Leone, quando sono stati intercettati e bloccati da agenti delle volanti, allertate da una segnalazione alla 113, a finire in manette ieri sera poco prima di mezzanotte in quattro. Concetto Piterà, classe 76, pregiudicato, Alfio Cristian Licciardello, classe 92, Salvatore Bonaccorsi, classe 77 e Antonino Guardo, classe 88, anche gli pregiudicato. Tutti i responsabili dei reati di porto abusivo di armi comuni da sparo, porto abusivo di armi da guerra, porto abusivo di armi clandestine alterate, porto abusivo di munizionamento da guerra e comune da sparo e ricettazione delle armi. Sul pianerottolo dello stabile, dove i quattro si erano rifugiati, sono stati rinvenuti due borsoni contenenti un vero e proprio arsenale, composto da micidiali, armi automatiche, fucili, pistole, numerose cartucce, un giubbotto antiproiettile, una fondina e due telefoni cellulari. Il materiale è stato sequestrato, mentre i quattro arrestati, dopo essere stati condotti in questura, sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza.